Ciao a tutti ragazzi sono Andrew Roberts e bentornati sul canale Oggi ragazzi come promesso in un precedente reel vi porto quello che era il numero 1 della collezione appunto di Hachette di Batman il Cavaliere Oscuro Ovviamente non sarà che una serie regolare perché devo capire bene un pochettino se mi interessa proseguirla o meno Però era un prodotto a 50 centesimi ovviamente da edicola e valeva sicuramente la pena di prenderlo Ovviamente ragazzi come avete visto ci sono già il trailer nuovo del canale quindi scusate la intro nuova del canale Con quello che sarà nuovo percorso sul canale per cui se siete interessanti ovviamente magari vi lascio anche il link dove vi avevo portato appunto il video dove ne parlavo Ora ragazzi sigla e poi partiamo appunto con Batman il mitico cavaliere Oscuro Allora ragazzi eccoci qua lì ci sono i pezzi ce li vediamo dopo Partiamo qua con tutto aperto l'uscita appunto dell'edicola quindi il nostro bel fascicoletto con ovviamente qua e tutte le prenotate copie che ovviamente lasciamo via Chiaramente ragazzi c'è tutto da vedere anche perché Batman il cavaliere Oscuro appunto dell'Hachette che ha portato questo prodotto qua Particolare ovviamente secondo uscita vedete 5,99€ ovviamente poi dovrebbe essere a 12,90€ i prossimi invi Ovviamente come al solito voi potete fare tutto l'abbonamento avere ovviamente i raccoglitori, il notebook addirittura la figura appunto del batpod La mag termica addirittura la barca Tra l'altro ragazzi sarà online anche il video sul vlog appunto della mia vacanza per cui seguitelo ovviamente se vi va Giusto per rimanere in tema di novità sul canale Qua ragazzi modello articolato di Batman ovviamente Qua c'è un'apertura incredibile passo passo Questa sarà la figure che andiamo a costruire chiaramente Vi ricordo che non so se la porterò a casa 90 cm quindi scala 1 a 2 praticamente Di fatto è metà quasi 1 a 1 quindi non è male non ho mai avuto delle figure così Per cui da questo punto di vista la posa a me sembra anche abbastanza interessante come possiamo vedere Chiaramente con il basamento appunto dell'uomo pipistrello Perché l'ho preso vabbè in realtà molto probabilmente proprio per il costo 50 centesimi Ci può stare darvi uno spunto ovviamente se vi può piacere di idea E chiaramente perché da quando ho iniziato poi a leggere le avventure con Dylan Dogg Batman mi ha gasato molto di più ad esempio che Superman nonostante Superman sia uno degli eroi più iconici Andiamo a vedere appunto quello che è la figure di Batman Questo è tratto dal film appunto da sagra cinematografia di Christian Nolan con Batman Begins Chiaramente questo è il nostro tratto da trattazione In questo fascicolo dovrebbero esserci informazioni appunto Secondo me più sulla tribologia del film che non sul fumetto Infatti vedete qua c'è Batman Begins del 2006 Poi c'è il Cavaliere Oscuro Il Cavaliere Oscuro in ritorno Comunque sempre un personaggio molto molto interessante dell'universo di DC Poi qua ovviamente ci sono caratteristiche dei vari personaggi Qua viene messo Alfred che è appunto il maggiordomo Barciato di Bruce Wayne ovviamente Quindi di conseguenza anche di Batman Ovviamente viene portato anche il cast del film E qua ovviamente abbiamo la parte di costruzione Chiaramente lo andiamo a vedere Adesso già che ci sia nel dettaglio Qua abbiamo la maschera Tra l'altro fatta comunque bene Devo dire molto morbida anche al tocco E qua ci sono quelli che sono i pezzi Qua c'è i supporti per la maschera Che ipotizzo infatti qua c'è proprio il dettaglio della figure Con il cacciavite e poi ovviamente ci sono anche le viti Che ovviamente ho dimenticato nella borsa ma poco male E quindi che poi possiamo costruire di fatto tutto il personaggio Qua già potete montare e assemblare Magari poi vi faccio vedere l'ultima clip dove vado all'assemblaggio finale Qua ovviamente c'è il dettaglio su dove va a piazzarsi Quindi all'interno con il supporto della maschera chiaramente E qua ragazzi c'è l'universo Batman Dove qua appunto si va a parlare qualcosina sul fumetto E anche perché poi c'era il ritorno del cavaliere oscuro Appunto il fumetto dove poi è tratto Che si ispira ovviamente il film da questo punto di vista Molto molto interessante E poi ovviamente vediamo che qua c'è appunto Battaglia di dirgo con Superman Quindi appunto viene piazzato anche il duello Che poi hanno ripreso nei film della DC Se non ve lo siete visto Beccate ovviamente di battaglia tra Batman e Super E Superman scusate Quindi qua alla fine c'è una litografia per la galleria finale Un fascicolo comunque interessante Prezzo 50 centesimi molto Ovviamente competitivo Chiaramente come al solito si punterà a tanti prezzi Quindi il consiglio ovviamente è verificare se ne vale la pena farlo Io vi dico sicuramente non so se lo farò tutto Voglio vedere se vale la pena alla fine farlo o meno Proprio perché bisogna capire la qualità della figure Come sarà Però per il momento il primo prodotto è buono Il secondo numero lo prenderò sicuramente proprio per vedere Poi dopo verificherò Adesso ultima clip dove andiamo a vedere un po' il montaggio finale Allora eccoci qua nell'ultima clip Ovviamente questo lo posso anche far vedere subito Perché ci sono piccole Ho recuperato le vitine che tra l'altro sono minuscole di fatto E sarà un bel casino se le perdete Quante ce ne sono dentro ce ne sono dentro Tre Vabbè te ne hanno detto una di bonus che non è male Allora prendiamo un pochettino qua le forbici Perché altrimenti qua ragazzi mistero Ah vabbè qua uscita Vediamo queste due se escono o se sono incastrate nella plastica No va bene dai Penso bastino queste due qua Anche perché chiaramente ci sono le strutture Vedete la maschera come abbiamo visto Poi abbiamo la struttura In plastica E andiamo a assemblare il tutto Vedete questo è 1.04 1.03 Sono E ovviamente il mitico cacciavite Che ci piace da tutto questo punto di vista Per montare deve essere molto semplice In linea teorica Basta che non facciamo la parte flop Ovviamente tipo il montaggio Si attacca alle strutture laterali In modo tale da piazzare il colpo qua E basta Ovviamente l'ultima clip Dove vi mostro il montaggio finito Ok questa dovrebbe essere la struttura montata In pratica Si è montata anche abbastanza agilmente Tutto sommato come al solito ottimo Perché sono magnetizzati Le viti con il nostro cacciavitino Per fare tutto bene E chiaramente poi all'interno Voi dovresti inserire questo qua In modo da sostenere Sostenere tra virgolette la maschera Quindi praticamente poi dopo ci sarà la seconda parte Con gli occhi eccetera eccetera Poi all'interno qua Andate ad inserire E niente ragazzi Direi che per questo video Adesso a questo punto è veramente tutto E noi ci vediamo un prossimo video Ciao